Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con questa edizione di Mattino 6, lunedì 21 agosto 2017, dunque inizia in nostra compagnia, speriamo gradita una nuova settimana, usciamo da quella del Ferragosto e siamo pronti a vedere i principali fatti di cronaca, come vengono riportati dalle testate locali, ma anche le prime pagine delle testate nazionali. Possiamo subito partire con la nostra rassegna stampa, andando a vedere le prime pagine dei quotidiani locali, oggi in particolare le quattro edizioni del centro e il messaggero Abruzzo. Qui siamo sulla edizione di Pescara, pestato dopo la festa, due arresti a Torre dei Passeri, giovane pescarese aggredito senza motivo e salvato dal sindaco. e poi ancora sotto la testata, misure eccezionali in Abruzzo, Pescara primo rientro da Girona, terrorismo dopo l'attentato in Spagna. E poi lo sporta a centro pagina, intanto con la fotonotizia, lo vedete Eusebio Di Francesco, Di Francesco buona la prima, il tecnico abruzzese guida la Roma, alla vittoria a Bergamo per 1-0. E poi di spalla, sempre per il calcio, Zeman indica l'obiettivo e un Pescara da Serie A, Pescara che domenica prossima debuterà all'Adriatico Cornacchia in campionato contro il Foggia. E poi in taglio medio c'è un lutto, leggiamo nel mondo del cinema, aveva 91 anni, addio al genio della comicità Jerry Lewis. Poi Ape Sociale, pensione anticipata, ecco tutte le novità. Torniamo alla cronaca, in particolare a Pescara e Montesilvano. Ecco qui Pescara, blizzi in centro, prostitute e clienti multati. Montesilvano, un albergatore, dice basta degrado, mi incateno. E poi in basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, perché non dobbiamo avere paura del caso. Andiamo ora alla prima pagina dell'edizione di Teramo, con le parole del sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Scuole, sto con i genitori. Manifestazione di protesta per la sicurezza, il sindaco non mi sento controparte. E poi leggiamo di spalla, ad Alba Adriatica, ha decine di migliaia in festa per il carnevale estivo. E poi in basso, a Teramo, riparte il rogo a Magnanella. È il sesto giorno. E poi per lo sport, Coppa Italia, il Teramo si qualifica grazie al Fondi e alla differenza Reti. Andiamo a vedere ora la prima pagina di Chieti, Lanciano Vasto. La cronaca, come per il titolo d'apertura, ressa allo stellario, ferito diciottenne. Chieti spintonato in mezzo alla calca e il ragazzo ricoverato per trauma cranico. Poi ancora lo sport, ma parliamo di beach volley. Leggiamo qui di spalla con l'impresa dell'ortonese Nicolai, insieme al compagno di squadra Lupo. Nicolai per la terza volta, ecco qui, campione d'Europa, sconfitto il tandem lettone in finale. E poi in basso, a Lanciano, arriva in moto all'ospedale. È gravissimo. A Vasto, Roghi caccia al piromene con il fiorino. E andiamo a chiudere con la prima pagina dell'edizione dell'Aquila Avezzano e Sulmona. Ecco l'apertura, schianto in moto, muore a 54 anni a Casteldieri. Odonto tecnico di Avezzano perde la vita, tre feriti in ospedale. E poi ancora il problema incendi, incendi che stanno devastando la nostra regione già da diverse settimane. L'incendio sul Morrone, in particolare nei pressi di Sulmona, minaccia le abitazioni. E poi scendendo l'Aquila, 3.000 multe dei vigili urbani in sei mesi. E poi per il calcio di Serie D l'Aquila parte bene in Coppa e passa il turno ai rigori contro il Pineto. E adesso vediamo la prima pagina del messaggero Abruzzo con la cronaca per l'apertura. Muore nell'incidente in moto a Avezzano. La vittima è un odonto tecnico, lo schianto sulla Tiburtina Valeria. Aldo Pulsoni, 54 anni, padre di due figli, ha urtato un'auto per poi piombare in una scarpata. Ecco la foto della vittima. Lo sport sotto la testata. Allora vediamo Serie D, Coppa Italia. L'Aquila ai rigori vince a Pineto, Francavilla, Pratola. Gol e spettacolo e vittoria al Francavilla. Per il beach volley Nicolai e Lupo conquistano il titolo europeo. E poi per il calcio di Serie B il pronostico di Deglio Rossi. Pescara Foggia sfida da A. Il tecnico indica le sue due ex squadre come protagoniste della stagione. Intanto Sebastiani chiede 3 milioni per la cessione di Zampano. E poi di Spalla scendendo. Tozza al posto di Pellecchia nella direzione scolastica. Il cambio in un momento dedicato per tutti gli istituti regionali. Al centro pagina la fotonotizia. La ricostruzione è pericolo nell'area rossa. L'Aquila cedono i puntelli. E poi sempre in taglio medio. La notte bianca finisce in rissa. Due in manette e una denuncia. Torre dei Passeri pugni e calci all'alba tra ragazzi. Per futili motivi. Allo stellario Furiosa lite. Giovane K.O. per le botte a Chieti e a Pescara. Squillo multe anche ai clienti. Lasciamo per qualche minuto le pagine dei quotidiani locali. Tra poco sfoglieremo all'interno centro e messaggero Abruzzo. Andiamo a vedere le prime pagine delle testate nazionali. e partiamo da Repubblica. Questo è il titolo d'apertura. Le rivelazioni del terrorista. A Barcellona uno degli arrestati racconta i segreti della cellula. Viaggi in Marocco, Francia e in Belgio. E poi sotto la testata amatrice. Un anno dopo l'emporio resta un sogno. Repubblica Terra Project. Abbiamo seguito quattro storie legate al terremoto. Sono finite così. Di spalla l'inchiesta razzista e pro-Trump. La galassia alt-right senza leader. E poi in basso la lettera. Cara figlia che vai a Parigi per l'Erasmus. Continua a non avere paura del mondo. Una riflessione dunque su quanto sta accadendo a livello internazionale dopo gli ultimi attentati. E poi l'odiatore che scambia Magic. Inteso per Magic Johnson. Per un migrante. La foto di Magic Johnson insieme all'attore Samuel Jackson. Che sono stati appunto ritratti seduti in una panchina a Forte dei Marmi. E qualcuno li ha scambiati appunto per dei migranti che bivaccavano. E poi l'addio a Jerry Lewis. Litigioso picchiatello. Andiamo avanti con la prima pagina del tempo. Fiera e mercati. Ci costano un miliardo dopo le torri all'euro. Altri guai per i romani. Ecco le richieste danni per i no della Raggi. Anche queste opere furono bloccate dal signor Berdini. E il conto alla fine lo paghiamo noi. E poi la fotonotizia dedicata allo sport. La prima giornata di campionato. Un ex laziale. Kolarov fa volare la Roma. Bianco Celesti fermati dalla spalla. I giallorossi espugnano Bergamo. Decide Kolarov. Inzaghi paga la Supercoppa. E stecca la prima. Poi l'attentato di Barcellona. Speranze finite. Il piccolo Julian non ce l'ha fatta. Andiamo avanti con la prima pagina del messaggero che andiamo a vedere. Ecco qui l'apertura. Barcellona. Imam legato a Nasseria. La mente della strage sulla Rambla. In contatto con la cellula che attaccò i nostri militari in Iraq. Braccato il killer nel covo 120 bomboli di gas. Gentiloni. Nessuno al sicuro. Ma non cederemo. Sotto la testata. Beach Volley. Lupo e Nicolai. Di nuovo campioni europei. E poi si è spento Jerry Lewis. Il genio picchiatello che rivoluzionò l'umorismo nel dopoguerra. E poi scendiamo e leggiamo l'editoriale di Raffaele Marchetti. Miopia dell'Europa. Passa dall'Africa. La nuova sfida per la sicurezza. E poi anche in questo caso viene dato risalto a questa triste notizia. Addio Julian simbolo della tragedia. Il bimbo dato erroneamente per vivo. Scendiamo. A centropagina c'è la fotonotizia. Anche in questo caso legata alla prima giornata di campionato. Roma cinica e tosta. Battuta l'Atalanta per 1 a 0. Delude la Lazio. Fermata all'Olimpico dalla matricola SPAL. 0 a 0. E poi manovra per i giovani. Taglio dei contributi e stipendi più pesanti. Il piano del governo per sgravi permanenti. L'Aran. Niente premi agli uffici. Con assenteisti. E ora vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. Neanche l'Italia sarà al riparo. Ma non cediamo. Questa è l'apertura. Gentiloni del terrorismo. Alfano. Allerta altissima. E poi la fotonotizia. Sono in realtà due foto. che vediamo il turista inglese e l'ex legionario sono una risposta. Prove di civiltà e coraggio. E poi c'è l'editoriale legato alla politica di Ernesto Galli della Loggia. La legge elettorale dare un governo al paese. Scendiamo. Andiamo alla cronaca. Morire in corsia dopo quattro ore di liti. assurda la fine di un ventenne. E poi in basso le parole di Adriano Celentano che commemora la scomparsa di Gerry Lewis. Ecco qui. Grazie Gerry. Sono cresciuto imitandoti. Adriano Celentano racconta il suo primo successo. Un tributo al comico scomparso ieri. E poi per lo sport in basso. Esordio con due vittorie per le milanesi. Inter Riccardi Cebbia. A tutta la viola partenza sprint. Milan travolgente. Andiamo ora a vedere la prima pagina del fatto quotidiano. Il Antonio 23 anni. Così si muore in Italia senza bisogno dell'ISIS. Il padre è ispirato in ospedale. Loro intanto litigavano. E De Luca tace. Tutto questo è avvenuto appunto a Napoli. Poi strage di Barcellona. Un bimbo, la vittima numero 15. Introvabili. Tre killer. Due forze morti. Almeno uno in fuga. E poi in basso storie di copertina all'estate degli esibizionisti. Dalle sagre agli yacht fino ai fori imperiali. Quelli che io porno. E poi ancora. Andiamo a vedere la prima pagina della stampa. Ecco qui l'apertura. Piano per i giovani. Un assegno a chi cerca lavoro. Gentiloni. Ora misure sciocche. Durature contro le diseguaglianze. Che crescono. Il Premier al meeting. Arriverò a fine legislatura. E poi la fotonotizia. Trump-Putin. La battaglia del gas. Prime forniture americane a Polonia e Lituania. Mosca offre prezzi più bassi. Poi di spalla la ricostruzione degli Stati Uniti. Regeni è stato ucciso dai servizi egiziani. Scendiamo in basso. La rete europea delle cellule jihadiste. Barcellona. Le indagini oltre i confini spagnoli. Palazzo Chigi. Cittadini aiutate le forze dell'ordine. E poi ancora la prima pagina del secolo XIX. Ecco l'apertura. Gentiloni. Ora misure sciocche e permanenti. Occupazione. Piano per i giovani. Un assegno per chi cerca lavoro. Il Premier vuole arrivare a fine legislatura. E poi la fotonotizia dedicata alla prima di campionato. Con occhio particolare chiaramente alle due genovesi. Allora da una parte Quagliarella trascina la Sampdoria. Il Ferraris 2 a 1 rimonta con il Benevento. Grinta Genoa. Pareggio con rimpianti. Traversa i go sbagliati. A Sassuolo è 0 a 0. E poi in taglio medio strage a Barcellona. L'ombra di una rete jihadista europea. Caccia al fuggitivo in Francia. Allerta anche in Italia. Avanti ancora con il mattino. Ecco l'apertura. L'imam nella rete del terrore. Barcellona. Il capo della cellula è in contatto con tentatori di Madrid. E kamikaze di Nasseria. L'indagine sulla strage nel covo del commando. Trovate 120 bomboli. Il piccolo australiano era tra i morti sulla Rambla. E poi sotto la testata. Questo fatto che ha davvero colpito l'opinione pubblica. La morte assurda tra liti ed errori. Loretto Mare indagano Procura, Asle e Ministero. La notte drammatica di Antonio. Tra incertezze su dove trasferirlo. E addetti che non si accordano. E poi di Spalla. Un commento alla prima giornata di campionato. Big tutti a razzo. Ma solo in Napoli. Incanta davvero. Sarri è il miglior gioco tra i grandi. Male la Lazio. Ora chiudiamo con la prima pagina di Libero. Cosa cambia se vince il Sì? Maroni spiega il referendum sull'autonomia delle regioni. Gestione dei migranti. Sanità e tasse. Come agiranno Lombardia e Veneto. I soldi deve averli. Chi sa usarli a investire nel sud. Ci pensiamo noi. Non Roma. Il nord. E nel nostro DNA. Toglierlo dal simbolo del carroccio. È un errore. E poi con Forza Italia. Tutto ok. Consiglio a Salvini di incontrare Macron. È un sovranista. E poi il bilancio di sei mesi. Trump fa errori. Ma chi lo critica? È peggio di lui. La fotonotizia al centro. La valigia in Duomo. Che nessuno controlla. Abbandonata per un'ora. E le misure antiterrorismo. Chi non ha paura è un cretino. Scrive Renato Farina. E poi ancora in basso. Le confessioni di Barbara Garlaschelli. Mi vergogno delle mie mani. Non del mio sesso. Tetraplegica e scrittrice. Lasciamo le pagine di libro. Ma in generale le prime pagine dei quotidiani nazionali. E torniamo ai quotidiani locali. Ripartiamo dal centro con riferimento alle misure antiterrorismo che stanno interessando il nostro paese e anche la nostra regione. Allora leggiamo a pagina 3. Abruzzo si intensificano le misure di sicurezza, barriere antisfondamento, rafforzamento pattuglie e videosorveglianza. Le iniziative nelle città capoluogo in occasione di manifestazioni pubbliche. Il sindaco di Chieti dissuasore in corso marrucino e telecamere in rete. E' a Pescara, a terra, il primo volo da Girona. Il racconto dei passeggeri che giovedì erano a Barcellona. Tanta paura ma dobbiamo reagire. Andiamo avanti. Corsa alla pensione. Domande per l'uscita anticipata in lista quasi 2.000 abruzzesi. Sono state 1.313 le richieste per l'APE sociale. 539 per i precoci. Le gradatorie entro il 15 ottobre. e chi non ha ancora provveduto a tempo fino al 30 di novembre per presentare istanza. E poi ancora per l'APE volontaria. Pronti i decreti. Tasso del presido inferiore al 5%. Avanti ancora. Siamo a pagina 5. Generazione 1980. Milena, Catiuscia e Stefania. Il miraggio dei contributi. Anni di studio e gavetta. L'idea di smettere a 70-73 anni con un assegno leggero. Storia di giovani abruzzesi alle prese. Con l'enigma della Previdenza. Andiamo avanti con questa interessante intervista al cantautore Roberto Vecchioni. L'Abruzzo nel cuore. Roberto Vecchioni. La felicità non è nell'imperturbabilità. La felicità è anche nell'attraversamento delle tempeste e nel lottare. Poi leggendo altri passi dell'intervista appunto a Vecchioni. Che regione la vostra? Bellissima da vivere. Il cantautore e scrittore si racconta prima dell'applaudito concerto di Atri. Parlo ai miei figli e a tutti i ragazzi provando a dare loro fiducia nel futuro. Poi ancora ho studiato molto nei libri. L'Abruzzo che ho conosciuto visitando più volte le sue stupende città. Pescara, Chieti, Terra, Amovezzano e L'Aquila. I giovani sono diffidenti e fanno bene. I vecchi sono diventati insostenibili. Gli adulti tendono più al rimprovero che al consiglio. Ed è un errore. Poi ancora ho tanti ricordi dei due anni dell'Università di Teramo con gli studenti, con il compianto rettore Luciano Russi. Eccolo qui nella foto. Persona profondamente colta e intelligente. Andiamo avanti con le pagine della cronaca di Pescara. Qui siamo più che altro in provincia di Pescara. La violenza a Torre dei Passeri. Il ragazzo pestato dopo la festa. Arrestati due aggressori. Ventenne musicista pescarese salvato dal sindaco. Denunciato un diciassettenne. E poi in basso, sempre per la cronaca, ma torniamo a Pescara. Raffica di multe a prostitute e clienti. Blitz dei vigili urbani in più aree del centro. Il sindaco. Repressione necessaria. Presto altri controlli. Proseguiamo. Restando a Pescara. Sempre la cronaca. Aggressione alla stazione. Senza tetto picchiato nel tunnel dormitorio. Voleva difendere il suo spazio. Romeno in cella. Due ricercati. E poi in basso, via Saline. Tra bivacchi e gente ubriaca. Lettera di un cittadino esasperato. Ogni sera c'è il rischio di aggressioni. Ho paura per mia figlia. Restiamo a Pescara. Senso unico in via Escriva. Più sicurezza. E 30 posti auto. Il vice sindaco Blasioli ha firmato l'ordinanza per modificare la circolazione all'incrocio con via Parco Nazionale d'Abruzzo. Si verificano troppi incidenti. Mentre leggiamo di spalle esercitazioni di salvataggio effettuate ieri a Pescara e a Francavilla. Proseguiamo. Questa volta siamo a Montesilvano dove c'è allarme sociale. Basta degrado mi incateno di fronte alla prefettura. Il titolare dell'hotel Le Nazioni scrive a Provolo e al questore. Siamo assediati. La pineta è occupata da extracomunitari e prostitute. I clienti se ne vanno. E poi ancora in basso c'è l'interrogazione di sinistra italiana. Penne mantenga la sede dell'Inps. Siamo alla pagina di Chieti. Ancora la cronaca in evidenza. Movida violenta. Ressa l'uscita dello stellario. Pugno in faccia a un 18enne spintonato in mezzo alla calca. Ricoverato con 10 punti di sutura e trauma cranico. Gli organizzatori nelle tre serate abbiamo fatto di tutto per garantire la sicurezza. E poi arriva in moto in ospedale. Gravissimo. Centauro racconta ai medici che dopo l'incidente avuto a Roccarasa ha guidato fino a Lanciano. E poi in basso a Lanciano massaggia luci rosse e si va verso il processo. A fresa grandinaria nel vastese. Roghi caccia al piromane con il fiorino. Pagina aquilana. La tragedia di Casteldieri si schianta con la moto. Muore a 54 anni. La vittima è Aldo Pulsoni. Odonto tecnico di Avezzano appassionato di calcio amatoriale. Nello scontro anche tre feriti. Di spalla l'aquila perdonanza musica e arte con fiordaliso in piazza. E poi in basso l'orsa amarena scorazza in paese a San Sebastiano dei Marsi. Piomba tra i vicoli nel giorno della festa patronale. Rogo sul morrone. Minaccia le case sul mona. Notte di paura nelle frazioni di Marane e fonte d'amore. Il comune valuta lo sgombero. Ora la pagina di Teramo. Vediamo il titolo. Il carnevale scaccia la paura dell'Isis. A proposito del carnevale di Alba Adriatica. Possiamo vedere alcune immagini. Per le quali ringraziamo il nostro Claudio Di Giacomo. Che ci ha inviato poche ore fa. Appunto queste immagini altamente spettacolari. Noi continuiamo anche a leggere sul quotidiano Il Centro. Decine di migliaia di persone sul lungomare per il corteo dei carri allegorici tra imponenti misure di sicurezza. Poi continuando a leggere l'articolo di Luca Tomassoni. Colori, maschere, danze e divertimento invadono il lungomare di Alba Adriatica e dicono un secco no alla paura. Ieri sera la folla delle grandi occasioni per il carnevale del mare. Decine di migliaia, probabilmente a ridosso dei centomila, gli spettatori ai due lati del serpentone allegorico. Ma anche nei locali che hanno fatto registrare il pienone fino a nottefonde. A dare il via alla sfilata la madrina dell'evento, Anna Falchi. A capo del corteo invece i ragazzi con smartphone e slogan contro il fenomeno del cyberbullismo. Tema sociale della seconda edizione di fila, affirma Claudio Marastoni del megaevento dell'estate albense. Insomma, come vedete immagini molto molto spettacolari. Poi vi rindiamo anche al nostro TG6 per il servizio completo sulla manifestazione che da anni caratterizza l'estate di Alba Adriatica. Ecco qui, è Alba Adriatica, ma sembra di stare in Brasile a giudicare da certe immagini. Andiamo a chiudere con il centro. Ecco qui, Magnanella. Al sesto giorno riparte il rogo forestali sulle tracce di chi ha piccato il fuoco. Anche a Macchia da sole e a Bascianella. Lasciamo il centro, andiamo ora a vedere il messaggero Abruzzo con le pagine all'interno dopo aver visto in precedenza la prima pagina. Ecco qui, il patto tra Blasioli e Alessandrini ricade sul rimpasto. Quindi si parla di politica in questo caso. Il passo indietro dell'attuale vice sindaco alle primarie del 2014 fu legato ad accordi con la corrente di Matteo. E poi in alto leggiamo oggi un altro incontro. Gli alleati di Diodati si giocano la carta dell'intesa elettorale. Teodoro morde il freno e Civitarese rischia. E poi ancora in basso, in taglio medio, rissa a Torre dei Passeri, ventenne picchiato alla notte bianca, due ragazzi arrestati, uno denunciato. E poi ancora in basso, prostituzione, i vigili multano lucciole e clienti. E invece a Montesilvano oggi l'addio a Salvatorelli, il cordoglio del primo cittadino Francesco Maragno. Andiamo avanti, siamo alla pagina aquilana. Cedono i puntelli, nuovo allarme. L'emergenza riguarda il balcone di un palazzo in via Bafile. Intervento immediato del comune risolve la situazione. Il primo cittadino biondi costa troppo sostituire tutti i sostegni. Controlleremo in maniera capillare gli edifici nelle zone a rischio. La ricostruzione torna alle prese con il rischio cedimenti. A giorni un vertice per studiare il caso. E poi a centro pagina, fusione, ama tua, Pietrucci, prudente. Gli scontri non fermino il processo. Incontro comune, regione e sindacati il 31 agosto anche per affrontare la questione dei posti di lavoro. E poi in basso, a Rocca di Mezzo, il sindaco denuncia l'ex per peculato di Cicco. Contro Nusca per un PC che i carabinieri hanno trovato nella disponibilità di una segretaria. La pagina della Marsica, moto contro auto, muore odonto tecnico. Alle porte di Casteldieri si è schiantato Aldo Pulsoni, 54 anni di Avezzano, padre di due figli. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre motociclette e una punto. Ferite tre persone, il più grave portato all'Aquila. E poi ancora la pagina di Chieti. Steso con un pugno allo stellario, cade e batte la testa. Paura per un liceale 19enne finito al pronto soccorso con un serio trauma cranico. La denuncia parte dai social a Colle dell'Ara. La giovane vittima ha avuto anche dieci punti di sutura. Nessuna traccia dell'aggressore. E poi leggiamo ancora in basso. Il violento episodio ha segnato l'ultima serata della stagione alla discoteca della Civitella. E poi ancora la cronaca procura dichiarata ufficio disagiato. Nessun magistrato vuole lanciano. L'unica domanda è stata ritirata atteso a novembre il secondo PM di serio. È dura ma ce la faremo. Leggiamo ancora in basso. A Ortona 10.000 euro per sistemare le strade della vendemmia. Abbasto. Sosta vietata a Punta Penna. Turisti in rivolta per le multe. E poi ancora andiamo a chiudere con la pagina di Teramo del messaggero Abruzzo. Prima di andare alla nostra pausa. In classe, nelle scuole insicure c'è timore per il posterrani. Il commissario lascia l'incarico prima di aver risolto il problema degli edifici. Il sindaco pronto a tornare a Roma. Nessuna risposta sull'istituto Giolli. Il ritorno dalle ferie è subito il problema dei fabbricati che non hanno superato gli indici antisismici. Domani tecnici e dirigenti si incontrano per mettere a punto nuovi interventi. Poi sempre a Teramo, Brucchi, troppi haters, si è passato il segno di spalla. Leggiamo, notte bianca per 10.000, soddisfatti gli operatori. Notte bianca a Giulianova e poi in basso, sempre a Giulianova, il piromane accende il rogo alla foce del fiume Salinello. Ci fermiamo qui con la prima parte di mattino 6, ora a spazio delle previsioni del tempo, alla pubblicità. Poi nella seconda parte lo sport con i quotidiani nazionali, quelli locali. E poi vedremo anche un paio di servizi relativi alle gare di Coppa Italia di Serie D che si sono giocate ieri. A fra poco. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di mattino 6, tutta dedicata allo sport. Allora partiamo, come vedete alle mie spalle, proprio dai principali quotidiani nazionali, le prime pagine di Gazzetta Corriere Tutto Sport. Partiamo dalla Rosea, ecco qui Stremilano, parafrasandola. Stremilano, ieri le milanesi sono partite con tre reti a testa. E allora, ecco qui, doppio 3 a 0, Spalletti stende i viola, Mondella sbanca Crotoni, i gardi trascina l'Inter, Cutrone lancia il Milan sotto la testata. Ecco qui, e la VAR va, ma tecnologia ok a San Siro, Crotone e Genova. A Bologna non può intervenire il togo, il toro, pardon, paga caro. A Mihailovic manca un gol, pareggio e rabbia al Dallara. Ecco, poi al centro le foto di Cardi e Cutrone. Poi c'è sempre il mercato che impazza, mancano una decina di giorni alla chiusura della sessione estiva. Oggi Cancelo, poi Mangalà, c'è la suggestione Suso sul fronte Inter. E poi la polemica, il club Milan contro la D'Amico, nessun rosso-nero a Sky. Poi di Spalla a Bergamo è 1 a 0, la Roma basta la rete di Kolarov, tanti rimpianti per l'Atalanta. Le altre partite, Spal che debutto, blocca la Lazio, Quagliarella bis, la Samp rimonta. Manovre bianconere, la Juve valuta Renato Sanchez, Marchisio parte, Spinazzola vicino. E poi il commento di Luigi Garlando, le vite parallele delle milanesi e la cravatta di Totti. La prima pagina del Corriere dello Sport, Rieccole. Questa è l'apertura del Corriere, Inter scatenata, Milan un rullo, le milanesi sono tornate. I Cardi, una doppietta show, poi Perisic, Fiorentina battuta, Spalletti. La strada giusta, tre golle, il Crotone si inchina. Cutrone ancora protagonista, mercato oggi sbarca Kalinic. Poi sotto la testata, ecco qui la Roma subito nel segno di Kolarov. Punizione, gol, vittoria a Bergamo. I giallorossi non incantano, ma Di Francesco fa festa. Vittorie così sono importanti, sappiamo soffrire. Poi il parere di Alessandro Vocalelli, i nodi del VAR, il rilancio di Milano. La Lazio si ferma, la Spall strappa il pari in basso, Spinazzola alla Juve, ore decisive. Poi Garai che brividi a Barcellona una vittoria tra le lacrime. La prima pagina di Tutto Sport che apre con il mercato, anziché dare spazio ai verdetti della prima di campionato. Strootman alla Juve ci riprova. Quadrato può essere la carta decisiva, Andre Gomez l'alternativa. Intanto Allegri pensa a Sturaro, terzino. E poi sotto la testata, Toro rilancio, Giaic, Pasticcio, Massa. A Bologna finisce 1-1, il serbo risponde a Di Francesco. Nel finale l'arbitro interrompe l'azione del gol di Berenguer. Il VAR lo smentisce. E poi c'è l'editoriale del direttore Paolo De Paola. Viva il VAR, tutto sport si adegua. In basso, Milan, Cutrone che spettacolo, travolto il Crotone. Inter, questo Icardi inarrestabile. Perisic, Faferic, Spalletti. Estero, Conte, reazione da grande. Tottenham si arrende 2-1 per il volley. Lupo Nicolai, oro europeo. Terzo successo nel Beach. E ora vediamo alcune pagine della gazzetta dello Sport. Vecchia Inter, un'altra vita con Icardi e Perisic. Stende la Fiorentina, Formula, Spalletti, ok. E poi è subito Turbo Maurito che doppietta in 15 minuti. Infortunio alle spalle. Per il mercato, suggestione Suso. Oggi arriva Cancelo. Gabigol ai saluti. E poi ancora la due pagine sul Milan. Il Milan fa sul serio. A Crotone gioca bene in 23 minuti. È già 3-0. Avversarie avvisate. E poi il personaggio della domenica è Patrick Cutrone. Gol dopo gol. Cutrone ha costretto Montella a toglierlo dal mercato. La punta dal vivaio segna l'esordio da titolare in A. Dopo le reti estive a Lugano, Bayern e Craiova. Una dedica alla famiglia. E poi Kalinic. Ecco l'annuncio. Nyang più vicino allo Spartac. Un video su Twitter ufficializza la punta viola. Stamattina le visite costano 25 milioni. Da Mosca ne offrono 20 per il francese. E ora la due pagine sulla Roma. Una Roma che ha anche il sapore d'Abruzzo. Grazie ad Eusebio Di Francesco. Roma c'è, rimpianto Atalanta. Basta un solo tiro per non staccarsi e punire Bergamo. Ilicic fermo al palo fra due squadre in costruzione. La spunta quella di Di Francesco con la punizione di Kolarov. Di Francesco ammette una vittoria sporca. Amareggiato Gasperini. Non meritavamo la sconfitta. Spinazzola un vicolo cieco. L'uomo decisivo. Kolarov, l'ex laziale. Calcio piazzato e regia. Ma qualche tifoso non gli perdona la Lazio. Non posso rinnegare il passato. Oro-Sano giallorosso, dice il difensore bulgaro. E poi ancora le due squadre vittoriose al debutto. Ma sabato, ovvero Juventus e Napoli. Fronte Juve. Pjanic 2.0. Via all'era da regista. E per il mercato la Juve valuta Sanchez. Marchisio sacrificato. Spinazzola resta a casa. Fronte Napoli. Napoli e la concorrenza del gol. Sarri si gode. Mertens e Milik. Difficilmente il tecnico farà coesistere i suoi centravanti. A meno di un 4-2-3-1. Dubbi in cabina di regia. La classe di Giorginio. La fisicità di Diavara. E proseguiamo con la pagina sulla VAR. VAR. Niente scherzi. Ok su Inter e Milano. A Bologna. A K.O. L'assistenza video chiarisce episodi da rigore a San Siro e a Crotone. Ma va in tilt il sistema di comunicazione al Dallara. Scatta il piano B con i walkie-talkie. Vediamo ora la pagina sul Beach Volley. Grande spazio della Gazzetta alla vittoria di Lupo e Nicolai. Che sono i padroni d'Europa. Tre titoli in quattro anni. Più l'argento olimpico. Volevamo riscattarci dopo il Mondiale. Eccoli qua Lupo e Nicolai sul gradino più alto del podio. La finale è dominata contro i padroni di casa Samoylobs e Smedins. La vittoria dopo quattro podi al World Tour e la delusione iridata. Ecco i successi anche del passato della fantastica coppia Lupo-Nicolai. Vediamo anche il Corriere dello Sport. Questa è la due pagine sull'Inter. Con Cicloni Cardi, Pioli Travolto. E poi ancora abbiamo qualità e forza. Spalletti contento ma non basta. Però in questo caso c'è un nodo legato alla VAR. Dunque arrivano anche le prime critiche. Il dubbio. Pioli tagliavento non ha visto il VAR. Sull'episodio di Simeone ho solo chiesto all'arbitro perché non è andato al monitor. La Fiorentina mi ha dato buone sensazioni. Leggiamo anche la pagina sulla serie B perché in basso si parla di Pescara, in particolare Nicastro Braccio di Ferro. Su Nicastro esterno del Pescara ci sono le attenzioni di Avellino e Salernitana. Se il giocatore biancazzurro dovesse partire, gli abruzzesi si dirigerebbero su Carlos Embalo, obiettivo di mercato del Pescara. In settimana dovrebbe concretizzarsi l'eventuale passaggio di Leian Memushai al Benevento. Cesare Bovo potrebbe anche restare in biancazzurro. Lasciamo i quotidiani nazionali e torniamo sui locali. Ripartiamo dal centro. Ecco qui con le parole di Zdenek Zeman per l'apertura dell'inserto lunedì sport. Zeman, il Pescara è da serie A. Il tecnico indica l'obiettivo ed oggi i giovani hanno voglia di apprendere e di migliorarsi. E poi di spalla l'ortonese Nicolai, campione d'Europa. In taglio medio, serie C. Il Teramo avanza in Coppa Italia grazie al Fondi. Serie D, l'Aquila, i Rigori e Francavilla cominciano bene. Eccellenza, Chieti e Cosimonetti. Il Giulianova finisce già sotto processo. Andiamo a sfogliare le pagine dello sport. Dunque, Zeman, obiettivo serie A. Il mio Pescara deve puntare alla vittoria del campionato. Non si nasconde dunque il Boemo. In questo si aspettano il pubblico e il Presidente. Tanti baby pronti al decollo. Hanno voglia di apprendere e di migliorarsi. Domenica l'Adriatico, il debutto contro il Foggia. Il Delfino parte con grandi ambizioni dopo l'amara retrocessione. In basso, ecco qui, un primo check sul prossimo avversario, che è anche il primo. In campionato, Rossoneri in B dopo 19 anni. Il Foggia di Stroppa vuole stupire otto volti nuovi e tanto entusiasmo. E oggi, alle 12, inizia la prevendita dei biglietti. Avanti ancora. Domenica ci sarà anche l'esordio in campionato per il Teramo. Ebbene, Asta, col Mestre, voglio un Teramo aggressivo. Stiamo abbastanza bene, ma le prime giornate sono un'incognita. Coppa Italia, il Fondi batte la fermana e i biancorossi si qualificano al primo turno. Il direttore sportivo, repetto, è sempre alla ricerca di un portiere esperto e di una punta centrale. Forse arriverà anche un centrocampista. A breve la decisione su Tittarelli e su Martinez. E poi un balzo in prima categoria. Lanciano, ultimi giorni di attesa e speranza. In caso di mancato ripescaggio in promozione, il tecnico Del Grosso e molti calciatori potrebbero lasciare. La società spera nel miracolo, ma il tempo stringe. Domenica inizierà la Coppa Italia. L'unidì verranno presentati i calendari. C'è il rischio di rifare la squadra da capo. E poi la Coppa Italia. L'Aquila, la prima vittoria è di rigore. Vantaggio con Caffiero e pari di Orlando. I rosso-blu passano a Pineto dopo la lotteria dal dischetto. Domenica il San Nicolò. Qui abbiamo anche le parole dei due tecnici. In particolare Battistini, bene, ma troppi errori. A Maulo, alla fine eravamo stanchi. Ci sono anche le pagelle. Nell'articolo firmato da Roberta Di Sante. Un gruppo di tifosi aquiliani del Mariani Pavone contesta. In particolare il DG Fabio Aureli. E poi ancora le altre abruzzesi. Vastese a Colavitto serve subito un attaccante. Il DS Miciole in quel reparto siamo contati, ma ci stiamo lavorando. Arriverà prima della trasferta di San Marino. E poi sul fronte Avezzano. Avezzano sulle tracce del difensore di Rocco. Il presidente bianco-verde Paris. Contiamo di tesserare a breve come Anderle, l'esterno ex paterno. In basso Virtus San Nicolò. La stagione parte in Coppa Italia con l'Aquila. Domenica prossima i biancazzurri di Campanile affronteranno i rosso-blu. Vittoriosi a Pineto. Oggi ripresa degli allenamenti. Stasera la presentazione al Country House di Morro d'Oro. E poi l'altra gara di ieri di Coppa Italia. Francavilla, Poker Show, Nero Stellati, K.O. I giallorossi si qualificano dopo una gara rocambolesca. Bomber, Galli è scatenato. Tripletta e rigore decisivo al 96esimo. Al Valianzuca partita pirotecnica. Con i padroni di casa avanti, ma ripresi nel finale. Dai Pratolani. E poi in basso Di Marzio elogia i suoi. Iervese Punzecchia. Non mi è piaciuta la gestione del risultato. Di Marzio confermato tecnico dei Nero Stellati. Iervese neo allenatore del Francavilla. Allora vediamo i due servizi delle partite di Coppa Italia di ieri. Partendo da Pineto l'Aquila. Il servizio di Roberta Di Sante. Poi la firma di Paolo Renzetti per Francavilla. Nero Stellati. Passa l'Aquila al Mariani Pavone contro il Pineto dopo la lotteria dei calci di rigore nel primo derby stagionale valido per il preliminare di Coppa Italia. Nonostante il ritiro partito in ritardo e la preparazione accelerata e concentrata in due settimane, la squadra di Battistini offre un ottimo primo quarto d'ora di gioco al cospetto di un avversario. Passo inizialmente pur compassato, però per via dei calchi di lavoro dell'ultima settimana. Nuovo modulo per mister Amaolo che vara il 4-3-3. Con Pezzotti esterno basso a sinistra e Napolano e Bitegna dal primo minuto a formare il tridente d'attacco con Gragnoli. Battistini risponde con un 3-4-3 con Capitan Stegra a dettare i tempi a centrocampo. E il tridente d'attacco composto da Boldrini, Fabrizi e Padovani. Il primo sussulto del match all'undicesimo quando Pupeschi mette in movimento Fabrizi, che chiuso da Pomante non riesce a concludere a rete. L'Aquila insiste e tre minuti più tardi va vicinissimo al vantaggio. Boldrini mette in mezzo dalla sinistra la sponda dalla parte opposta di Padovani e Caffiero che di testa costringe Giacchetta al grande intervento. E il preludio al vantaggio rosso-blu che arriva al ventesimo sugli sviluppi della punizione di Boldrini. Un rimpallo favorisce il tapin vincente di Caffiero pronto ad appoggiare in rete e portare in vantaggio i suoi per la gioia dei circa 100 tifosi aquilani giunti a Pineto, che continuano tuttavia a contestare una parte della dirigenza rosso-blu. Dopo la prima mezz'ora di gioco i ritmi calano, l'Aquila risente sul piano fisico del ritardo nella preparazione e il Pineto viene fuori. Prima si fa vedere con un pericoloso traversone di Napolano, poi sugli sviluppi di un corner Mariani non riesce ad incornare. Al 39esimo l'occasione più ghiotta quando Pezzotti mette in mezzo un ottimo pallone per Bisegna, ma la chiusura dell'ex Matelica Ibozo su di lui è praticamente perfetta. Il Pineto però spinge e perviene al pari nel finale di primo tempo. L'ex di giornata Zane conclude dal limite costringendo Farroni alla respinta che Orlando, ben accostato in area, ribadisce in rete. La prima frazione termina così sull'1-1 nella ripresa. Dopo la girandola delle sostituzioni, le due squadre si controllano a vicenda. Le emozioni più importanti sono pro l'Aquila al 21esimo con una conclusione di Branci deviata da Giacchetta e il colpo di testa troppo angolato di Padovani al 39esimo. Il calo fisico delle due squadre in questa partita di fine agosto nel finale è evidente e i tempi regolamentari si concludono sull'1-1. A decidere sono quindi i calci di rigore dal dischetto decisivi, gli errori di Bisegna e Gragnoli e l'ex Avezzano Padovani consegna all'Aquila con l'ultimo penalty, quello decisivo, la vittoria ai rosso-blu che al primo turno incontreranno domenica prossima il San Nicolò. Nella sfida del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D che metteva di fronte due matricole la spunta il Francavilla per 4-3 sul Nero Stellati Pratola dopo 90 minuti dalle mille emozioni e fra due squadre che non si sono certo risparmiate nel caldo del Valleanzuca si comincia di fronte a circa 400 spettatori. Al quinto la prima emozione di marca locale con Banegas che da prima del limite prende la mira concludendo in un soffio sopra la traversa. All'undicesimo ci prova dai 20 metri sempre per la formazione di casa Galli che non inquadra però lo specchio della porta. L'undici di Ervese prende subito in mano le redini del gioco e così al quattordicesimo ancora Banegas in area a rendersi pericoloso con il portiere ospite parente che si salva in calcio d'angolo. Passa un minuto e sugli sviluppi del corner Capitan Sembroni di testa a schiacciare sotto rete trovando la respinta del portiere ospite. Il vantaggio immature arriva al sedicesimo quando Galli approfitta di un errore del portiere e a porta praticamente sguarnita a mettere alle spalle dell'estremo Peligno. Vantaggio meritato per i padroni di casa visto che al diciannovesimo è Miciche a divorarsi davanti ad un parente questa volta miracoloso il gol del raddoppio. Il Francavilla è già in forma campionato con un Banegas già ispirato ma che al ventiduesimo manca di un soffio il raddoppio. La formazione pratolana si scuote solo al ventiquattresimo quando è spacca con i piedi a direno a di sotto che conclude a colpo sicuro ma è sempre la squadra adriatica a farsi maggiormente apprezzare sul piano del gioco nonostante il vantaggio anche se nella seconda parte di primo tempo i giallorossi allentano un po' la presa non rischiando però praticamente nulla fino all'intervallo. Nella ripresa pronti via ancora Galli al secondo questa volta di testa va a segnare il gol del 2-0 festeggiando così la sua doppietta personale. Gara che sembra mettersi in discesa per il Francavilla che però rischia al settimo quando di ruocco in area fa tutto bene concludendo però di poco a lato. Il doppio vantaggio permette alla formazione del presidente Candeloro di amministrare la gara. L'undici di mister Di Marzio ci prova ma la difesa giallorossa fa buona guardia. Sugli spalti fanno intanto festa i supporters francavillesi soddisfatti della prova dei propri beniamini. In campo accade poco ma al ventunesimo c'è però un lampo di Sotti che si guadagna un calcio di rigore dopo un fallo di Di Sabatino superando poi spacca dagli 11 metri riaprendo così la partita. La squadra di Iervese accusa il calo fisico per una preparazione iniziata in ritardo e così Peligni al ventiseiesimo con Ponticelli di testa trovano il gol del 2-2 tutto da rifare per il Francavilla che poi ci riprova subito al ventisettesimo con Duro a cui parente dice di no. Il finale di gara sembra sorridere ai nerostellati che mettono la freccia trovando al 39esimo il gol del 3-2 con Di Ruocco in contropiede ma non è affatto finita perché al 92esimo Mancini si inventa un erogol per il 3-3 del Francavilla poi al 95esimo c'è un rigore per il Francavilla con Galli che dal dischetto non sbaglia per la tripletta personale ed il 4-3 finale che regala ai giallorossi il passaggio al turno successivo di Coppa. Ultimi 5 minuti della nostra rassegna stampa proseguiamo sul centro con le big del prossimo campionato di eccellenza Chieti, Aielli sorride, ingaggiato Simonetti abbonamenti al Via, i Nero Verdi si assicurano l'ex centrocampista della Torres il tecnico è fiducioso, stiamo lavorando duramente poi pari nell'amichevole, Vernacoto, la striglia e il Real Giulianova dopo l'1-1 nel test con la Rosetana e il DG chiama al rapporto la squadra a mercato prossime ore decisive per Palandrani proseguiamo con la pagina sul Beach Volley un ortonese sul tetto d'Europa Nicolai, 201 centimetri che fanno paura a muro dal flop ai mondiali d'inizio agosto al terzo titolo continentale di fila talento e carattere per restare ad alti livelli dopo l'argento dopo l'argento nelle Olimpiadi di Rio 2016 serviva una dimostrazione di forza dopo la delusione in Austria e arrivano i complimenti dal ministro dello Sport Lotti Nicolai e Lupo semplicemente fantastici il tweet del presidente del CONI Giovanni Malagò e poi ancora in alto trionfo azzurro in Lettonia a Jurmala gli idoli di casa Samoilovs e Smedins costretti alla resa primo set vinto agevolmente secondo ai vantaggi il punto decisivo firmato dal romano Daniele Lupo avanti ancora con la pagina sul basket giovani ed entusiasmo Roseto riparte per stupire raduno degli Sharks di Paolo Antonio vedo una squadra carica novità societaria all'orizzonte potrebbero entrare nuovi imprenditori e poi di spalla la metateramo mercoledì su il sipario per la presentazione in taglio medio Millina mette sotto torchio il Campri doppie sedute per i Farnesi il pivot Ponziani felice di essere rimasto Giuliano Valvia attisato gran voglia di fare bene Blois il nuovo team manager poi in basso sul fronte Amatori Pescara il nuovo coach Stefano Raiola è fiducioso ottimi acquisti al via la stagione dell'Amatori con l'esordio del nuovo allenatore Ortonesi al lavoro Morciano nel mirino della Weir piace l'ala ex Monteroni il 2 settembre primo test col Teramo chiudiamo con il rugby l'Aquila rinvia il ritiro senza soldi pesca nella C i Neroverdi in crisi economica organizzativa e tecnica prendono tempo e cercano giovani nei campionati minori la Gran Sasso aspetta solo di Utois avanti ora con il messaggero Abruzzo ultimissimi scampoli della nostra rassegna ripartiamo dalla serie B con le parole di Deglio Rossi Pescara Foggia sfida da Deglio Rossi presenta la sfida dell'Adriatico sono due squadre che hanno tutto per vincere il campionato i biancazzurri hanno talento è un tecnico che è una garanzia i rossoneri possono continuare la loro striscia vincente sul fronte mercato Sebastiani ha chiesto 3 milioni per Zampano in basso parte oggi la premendita dei biglietti sul fronte Foggia Colucci c'è una retrocessione da cancellare l'ex biancazzurro oggi DG rossonero ha vissuto una deludente parentesi in riva all'Adriatico per la serie C Asta finora Terramo ok adesso sotto col Mestre domenica parte il campionato l'allenatore soddisfatto del percorso fatto dai biancorossi ci sono ancora molte cose da rivedere ma i ragazzi stanno assimilando il mio credo e poi sul fronte eccellenza Chieti al centrocampo e rinforzo e Simonetti Vernacotolo infuriato così non ci siamo per la serie D le partite di ieri l'Aquila avanti ai rigori contro un buon Pineto Francavilla Nero Stellati con gol e spettacolo Galli tripletta vincente e poi ancora per il basket leggiamo gli Sharks ripartono con tanti volti nuovi ieri il Raduno Casagrande unico confermato del gruppo invece sul fronte Amatori quattro volti nuovi e un Amatori da Corsa in basso Nicolai Oro agli europei primi per la terza volta in quattro anni l'ortonese insieme a Colupo vince 2 a 0 per il calcio a 5 per l'acqua e sapone e il giorno del raduno torna ad allenarsi la formazione di Antonio Ricci e poi ancora leggiamo questa intervista al dirigente rosetano Fossataro una vita nel segno del rosetto questo sarà il suo cinquantesimo anno accompagnatore Griffin e Rauf i giocatori più forti Melillo il top la squadra migliore quella di Amadio e possiamo fermarci qui con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti informativi con il nostro TG alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 mattino 6 invece torna domani alle ore 8 io ringrazio Maurizio da qui in regia e ringrazio a voi per la cortese attenzione buona giornata e ringrazio a voi e ringrazio a voi